Dati contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Quell'improvviso bussare alla porta del suo rimorchio lo fece ghiacciare immobile. Gli occhi si spostarono sulla tv dove vide Billy davanti alla porta. L'alto e calvo signore anziano dondolava con i piedi tranquillamente durante l'attesa con le mani in tasca fischiettando. Era pietrificato, il martello era ancora sollevato sopra la sua testa con la paura di respirare. Forse se stava immobile e non faceva rumore Billy l'avrebbe lasciato in pace e se ne sarebbe andato via. Forse l'avrebbe ingannato facendogli credere che non c'era nessuno in casa. Bastava solo che non rispondesse. Purtroppo le sue preghiere non furono soddisfatte quando sentì una candida vocetta provenire dalla porta del rimorchio alle sue spalle. Come va vicino? Vorrei darti il benvenuto nel vicinato. Si fuse il cervello tentando di ritrovare il modo di rispondere. Proprio per questo era un tipo cauto che pianificava profondamente, perché odiava l'improvvisazione sul momento. Come poteva pianificare qualcosa? Va via, sono... sono ammalato. Abbassò la testa e si coprì il viso con le mani tremanti. Ma sul serio? Era quella la miglior risposta che potesse dare? Oh cielo, no! Disse la vocina dal retro. Allora perché non esci fuori? Ti chiamerò un dottore. Non vorrei che tu soffra. Divenne un'altra idea. Poteva provare a spaccare la testa di Smiley a martellate come stava per fare con Maria. Non dovrebbe essere difficile. Apri la porta, colpisci forte la sua testa calva col martello prima ancora che se ne accorga. Aprì la bocca per rispondere, ma tutto quello che ne uscì fu un gridolino acuto alla vista di quello che apparve in tv. I burattini fecero la loro saltellante entrata in scena arrivando di fronte al rimorchio, mettendosi a scalpitare le mura con le loro zampette. Guardando con più attenzione, si accorse che sembravano più grossi. La loro grandezza era raddoppiata e si muovevano come un branco di feroci animali selvatici. Tornò al finestrino e sbirciò attraverso le persiane. I burattini adesso avevano anche le facce cambiate. Gli occhi neri luccicanti erano spalancati e demoniaci. E le semplici espressioni carine erano rimpiazzate da orrende smorfie furiose. I loro nasi dondolavano sui loro musi come orri di tumori gonfi ai denti. Una di quelle bestiacce schizzò contro il finestrino e gli scattò le fauci addosso come un pirania. Notò che i denti sembravano un'enorme moltitudine di aghi affamati, lunghi quasi quanto il suo dito medio. Cadde finendo col sedere a terra. Sollevando lo sguardo vide che i pupazzi mostruosi battevano le zampe contro il vetro così forte che avrebbe presto ceduto. Per un attimo credette che anche la sua mente stesse per cedere. Ma prima ancora di poter registrare la follia che gli si scatenava intorno, sentì di nuovo la voce di Smiley. E i burattini si inclinarono via scomparendo dalla visuale. Vicino, perché non vieni fuori se sei ammalato? Non vorrei che passassi l'influenza all'altra persona che sta dentro questa bella roulotte? Ovvio che sapeva di Maria. Era per lei che tutto questo inferno stava accadendo. Per caso Smiley era al corrente di tutte le altre bambine? Era tutta una specie di resa dei conti. Ma non era colpa sua. Il bruciore interno. Quelle bambine lo aiutavano a curarsi. Era l'unico modo di zittire le urla di sua madre che lo rimproveravano. L'unico modo per soffocare i ricordi di quello che gli faceva suo padre. Un modo per sentirsi al comando. Per caso Smiley sapeva anche quello? Se è così, perché non era intervenuto allora? Maria stava ancora immobile al suo posto. E in quel momento ebbe l'improvviso bisogno di spaccarle la faccia a martellate. Se doveva morire. Almeno se ne sarebbe andato dopo aver preso quello che voleva. No, no. C'erano ben altri problemi al momento. Doveva trovare il modo di fuggire dal vicinato. Non c'era verso che uscisse fuori. Quelle cose lo avrebbero inseguito non appena avesse messo piede fuori. E non voleva neanche immaginare che cosa gli avrebbe fatto se l'avessero raggiunto. Se solo ci fosse un modo per superarli. Ma certo. Era in un rimorchio. Perché non metterlo in moto e andarsene subito? Come aveva fatto a non pensarci prima? I suoi nervi erano davvero a pezzi e la sua mente era talmente in tilt da tutto quel fuoco che lo consumava da dentro che non si era accorto dell'ovvia scappatoia. Potrebbe anche investire quelle bestiacce e ridurrele in polstiglia sgommando. Anche Billy se si azzardava a bloccargli la strada. All'improvviso però il rimorchio sembrò abbassarsi bruscamente da un lato. Ebbe il tempo di vedere in tv che i burattini mostruosi stavano azzannando le ruote della macchina. Poi salterlarono dall'altra parte della carovana e attaccarono le ruote rimanenti. In pochi secondi sentì due forti scoppi e anche l'altro lato si abbassò. «Sembra che tu abbia qualche problemino con la macchina vicino. Vieni fuori. I miei amici sarebbero lieti di aiutarti a cambiare le gomme», disse Smiley da fuori. Le creature emisero degli strilli acuti simili ai versi di uccelli che venivano uccisi. Stavano ridendo. Lo prendevano in giro. Smiley. I burattini. E perfino Maria che stava ancora seduta su pina nella posa della scimmia che non vede alcun male. Si trattava forse di un gioco. «Vi prego!» urlò. «Andate via!» Corse alla porta del rimorchio. «Non uscirò mai! E adesso porta via quelle cose che hai con te! E lasciami stare!» Gli strilli si placarono. Per un attimo c'era silenzio. Tremando, porse l'orecchio contro la porta, sperando che Smiley e le creature l'avessero ascoltato. «Se ti rifiuti di uscire!» Disse improvvisamente quella voce gentile con un sussurro agghiacciante. «Allora veniamo dentro noi!» Un potentissimo fragore contro la porta lo scosse indietro, facendolo cadere. Un secondo dopo ci fu un altro potentissimo colpo e poi un altro ancora. «Credevi davvero che delle serrature potessero fermarci?» La voce di Smiley non era più pacata. Era orribilmente autoritario e furioso, come un tuono. Era così forte che per poco credette che gli fossero scoppiati timpani. Qualcos'altro urtò potentemente contro la finestra. Attraverso le persiane notò che il vetro era inclinato. Un altro schiantò la porta. Stavolta vide che stava iniziando a cedere. Tutto il rimorchio stava dondolando scosso dai colpi. «Eravamo cordiali con te, vicino, perché chiedere il permesso è la cosa gentile da fare. Ma non farti illusioni. Noi non avremo mai accettato no come risposta». Un altro potentissimo colpo per poco distrusse la porta. E due finestrini si ruppero. I frammenti di vetro caddero sul pavimento. L'unica cosa che tenevano a bada quelle bestie erano le fragili persiane di legno, che stavano per cedere in ogni momento. «Sei stato un bambino cattivo, non è così?» Questa volta la voce di Billy sembrò scuotere tutto il mondo. «Sei stato un bambino molto cattivo!» «I bambini cattivi meritano una punizione!» Altre finestre scoppiarono frantumandosi. Pezzi di vetro e persiane spaccate ricoprivano il pavimento e riusciva ad intravedere le grottesche sborfie dei mostriciattoli che lo fissavano. Adesso non c'era via di fuga. Osservò inorridito le bestiacce che si arrampicavano dentro e sul soffitto in mura come dei ragni, mentre un colpo finale finalmente fece scoppiare la porta, ripiegandola mentre si staccava dai perni. Billy Smiley apparve sulla soglia. Non c'era più niente di amichevole nel suo sorriso. Anzi, sembrava contorto come il ramo di un vecchio salice. Deformava il suo aspetto in qualcosa di più sinistro e deviante. I burattini saltellavano sempre più vicini. Ormai erano entrati tutti dentro, ma in quel momento posò di nuovo lo sguardo su Maria. Forse poteva tentare di prenderla in ostaggio. Magari se l'afferrava, poteva negoziare una fuga o riacquistare un po' di quel controllo che Billy e i suoi pupazzi gli avevano rubato. Scattò di corsa verso di lei, ma due burattini furono più veloci e lo bloccarono prima ancora di poter raggiungere il divano. Cadde a terra e avvertì lunghissimi aghi che gli laceravano la gamba. Si mise a urlare dal dolore e dalla paura, quando si accorse che lo stavano trascinando via verso la porta, dove il vecchio calvo con il sorriso terrificante lo stava attendendo. Tentò di alzare il martello, ma presto fu disarmato ed altri aghi gli azzannarono la mano e il braccio. Mordevano così forte che laceravano persino i muscoli. «Aiuto, Maria! Aiutami!» gridò, ma la bambina non diede risposta. Rimaneva ferma e immobile con le mani che le coprivano gli occhi, proprio come le aveva istruita Billy. Non si azzardava a guardare, neppure mentre la richiamava per nome urlando, neppure mentre le cose si misero a sbranargli l'interiore, lei non guardava, né mentre gli strappavano via le labbra e la lingua, né quando Billy insuppò i suoi resti con della benzina e gli diede fuoco, riducendola a un mucchio di cenere fumante in mezzo alla strada. Lei non guardò, neanche un pochino.